Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo video. Questo video parte dalla fine, oggi si inizia dalla fine, beh, perché sono già tornato a casa. Nella giornata odierna ho avuto la possibilità di vedere l'allenamento della Juventus alla Continassa. Poi sono successe delle belle cose. Vedere alcuni calciatori della Juventus è una persona che non mi aspettavo di trovare, sinceramente. Però è il bello dell'improvvisazione, non sai mai cosa vai a vedere, cosa trovi nella tua strada, cosa incontri nella giornata. Mi raccomando, prima di partire con il video, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. E niente, do linea a me del passato a Torino. Vamos! Siamo arrivati, adesso entriamo dentro la Continassa ed è la prima volta per me, quindi è un po' come se fosse tutto nuovo. In effetti è tutto nuovo. Però ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Niente, adesso entriamo, superiamo i controlli e ci vediamo dentro. Quanta gente! State togando a Brindy? Sei tornato! Sei tornato! Tornato, sempre sui canali, sui migliori canali di YouTube. Che lecca culo! Abbiamo preso posto, siamo abbastanza in alto, vediamo tutto benissimo. È la prima volta che entro qua dentro. Guardatevi là che stanno arrivando. Adesso stanno arrivando anche i calciatori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Anche di far le riprese. Guardali là, guardali là, tutti ora. No, devo fare... Dall'altra parte, in teoria, a fare la... Non è che si chiama? In pratica. L'attivazione muscolare. E te hai già fatto? Sì, no, io l'ho già fatto sui canini. Dopo scendiamo, andiamo anche noi a giocare, giusto? E Padovin? A Padovin. Guarda che bello che è. Che ce prega degli ho messi, non ci avemmo Padovin. Padovin! Comunque, questo qua sarà il campo dove stanno. E' là, cioè adesso no, però là sotto, li vedete? Ecco. Comunque, c'è da dire che persino il terzo portiere ha una tecna. tecnica migliore rispetto a certi centrocampisti che ho visto in Serie A. buono. Ah, eh? Sì. Cioè, non ho ancora svegliato un passaggio. È da dire. Che poi, c'è anche Spalletti, che sto parlando con Allegri. Sì, ma il calcio è semplice. Il calcio è semplice o no? È questo qua, vera domanda. Per me stanno discutendo sulla ricetta del cacciucco. Bisogna passarsi la palla tra quelli con la stessa maglia. E' un casino, ci sono tre colori qua. Infatti. Alla, Pado, com'è carica. L'isola l'hanno acquistato dall'Ikea in armadio. Bel cambio gioco. Bell'inserimento. Il campo finisce, Timo. Beltanzen. Oh. Oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, scusate, sto facendo la chiusa del video, mannaggia. L'allenamento è finito, molto tranquillo. Che sudata. Che sudata noi. Certo, potevamo scendere in campo, ma... Non volevo fare brutta figura a Tommaso Mancini, anche a Bremer, perché secondo me qualche movenza ti ha ricordato, posso dire che... E secondo me la B non si sarebbe neanche offeso, perché non l'avrei preso mai, sicuro. Però, molto tranquillo, arriviamo alla continanza e se ne rompono tre. Non vediamo più. Non vediamo più. C'è anche Edu. Ciao ragazzi. Ti è piaciuto il calcio di Spalletti? Mi state vedendo fin troppo su questi canali. No, è così bello. Spalletti ha fatto qualche lezione di tattica. Hai visto che era... Adesso ha detto lui l'allenamento. Esattamente. Adesso... Adesso presumibilmente andremo al Jai Hotel, a mangiare qualcosina, perché sto morendo di fame. Non mangio dalle 6, adesso vi porto anche dentro al Jai Hotel. Mamma che macchina, Lello. Mamma mia, come la pista. Vai, vai. Ho preso il muro, fratelli. Facciamo che lo prendi dopo, il muro. No, no, bisogna testare tutti gli airbag, anche il tuo. No. Ristorante. Ristorante. Quello sì. Mamma che rosso. Mamma mia. Allora io sincero non so cosa prendermi. Mi ispira molto le pennette al salmone. Molto. Ma anche le polpettine non lo so. Alla fine penne al salmone. Così. Per provare. Cioè. Un chiamo. Basta, basta. Lello sono patate. Grazie per averci invitato questo pranzo. Pranzo, vedi? Paga Lello oggi. Allora, non ho aggiornato la situazione, abbiamo finito di mangiare e abbiamo detto, andiamo a vedere se c'è qualcuno. Dicevo, andiamo a vedere la continuanza se c'è qualcuno. Alla fine abbiamo beccato. Spalletti. E bretti. Butta via. Cioè. Aspetta. Vi faccio vedere un'altra prospettiva. Finalmente c'è stato l'incontro fra i due bremer. Io so quello di, come si chiama il nuovo e-commerce? No. Il nuovo e-commerce. Wish. No, quella che sta uscendo adesso. Quella che compri tutto a due euro, quella roba là. Io sono il bremer di quello là. Temu. Temu, esatto. Bremer di Temu. Aspetta di infirmare. Grazie mille. Te la posso dare a te la- Sì, sì. Possiamo fare una foto? Grazie. Benarello. Ah. Grazie mille. Comunque questa giornata si è conclusa al meglio perché sono riuscito a beccare, come avete visto, Danilo e poi chi è che- Basta. Bremer? No, bremer l'ho già detto. Danilo. Io puntavo a Danilo e ce l'ho fatta. Danilo. Volevo dirgli sei mio papà, eh, però. Ti ho preso al fanta, Danilo fa il bravo, eh. Allora, uno non ce n'è. L'Allianz. Il video ragazzi termina qui, mi raccomando, ve lo ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace perché davvero a me fa un tremendo piacere. Mi fa veramente piacere, piacere, piacere vedere che i miei contenuti, che i contenuti che vi porto vi piacciono, mi date un bel segnale di vicinanza. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Grazie. Grazie.